Quest'oggi presentata la rassegna natale a Pompei, 30 giorni di eventi che illumineranno la città, un cartellone variegato, spazio al villaggio di Babbo Natale per i più piccoli, appuntamenti culturali, musica, teatro, Peppe Barra e i Neri per caso tra i protagonisti, un impegno dell'amministrazione comunale in sinergia con la regione Campania e con il santuario di Pompei. Noi abbiamo ascoltato il primo cittadino della città di Pompei, Pietro Amitrano, in rappresentanza del santuario, Monsignor Pasquale Moscerino. Sindaco, un mese di eventi per festeggiare il Natale per i Pompeani ma anche per le migliaia di visitatori che affolleranno la città. Ha detto un mese dedicato ai bambini, dedicato agli adulti, eventi culturali, grandi spettacoli, insomma tutti gli ingredienti affinché si possa vivere al meglio il Natale. Sì, effettivamente è così anche perché è il nostro primo Natale, il primo Natale di questa nuova amministrazione per cui abbiamo cercato nei limiti di quello che può essere la nostra disponibilità a fare un cartellone di un certo tipo e di un certo rilievo. Ci sarà spazio per tutti, ci sarà spazio per la cultura, per il gioco, per lo spettacolo, per il teatro e sono abbastanza soddisfatto. Sono soddisfatto anche perché poi, come abbiamo illustrato stamattina, gli eventi sono tantissimi e si distribuiranno praticamente da questa settimana fino al 7 gennaio. Impegno dell'amministrazione comunale in sinergia con la Regione Campania e il santuario? Vediamo i loghi che campeggiano accanto a quello della città di Pompei. Sì, anche e soprattutto sì, anche perché sapete tutti, insomma, uno dei miei primi programmi era quello di stabilire un contatto diretto sia con la sovraintendenza che con il santuario e diciamo che questo è un primo passo, un primo passo importante perché la curia si è dimostrata disponibilissima, abbiamo fatto un solo programma, abbiamo fatto un programma insieme, la sovraintendenza non aveva eventi per questo spazio, diciamo, e quindi non è stata inserita, ma comunque è molto molto felice di partecipare eventualmente alle prossime nostre idee. In ogni caso c'è anche il progetto, nel programma generale c'è il progetto Intraterra che è quello poi finanziato dalla Regione Campania di circa 100 mila euro. Alcuni eventi sono stati inseriti in questo tabellone natalizio, altri saranno spalmati poi fino a marzo-aprile, anche perché il progetto prevedeva eventi da giugno-luglio quando è stato accordato il finanziamento fino a marzo-aprile dell'anno successivo. L'atmosfera natalizia segnata dall'accensione delle luminari, diceva, quest'oggi si è chiuso il procedimento, ha incrociato le dita, 7 di dicembre l'accensione. Sì, incrociamo le dita perché effettivamente la gara si è conclusa oggi, quindi da domani dovrebbero partire le prime installazioni, sperando di essere tutti contenti, soprattutto di essere molto più buoni e lavorare, lavorare è quello che sto chiedendo da una vita, lavorare e collaborare con l'amministrazione. Noi da soli possiamo fare tutto quello che è in possesso delle nostre facoltà, però se noi abbiamo, e la sto trovando per la verità, se noi abbiamo la collaborazione dei miei cittadini sarei molto molto più felice. Un'ultima battuta, uno spazio destinato alla collettività, un altro spazio che si riapre, il museo diceva c'è un primo evento ma ha lanciato anche un invito alla città, alle imprese, a quanti vogliono manifestare il loro estro creativo a sfruttare questo spazio? Sì è vero, io ne approfittai tre anni fa quando facevo l'assessore e abbiamo fatto quella bellissima mostra sui Pingo Floyd, questa volta c'è stata di nuovo la possibilità di riaprirlo anche perché era solo ed esclusivamente questione di volontà, abbiamo la possibilità di riaprirlo anche se in modo parziale, l'ho detto, avremo un salone a disposizione e quindi indipendentemente dalle date che già sono state programmate invito tutti i nostri cittadini, tutti i nostri artisti se ci sono, ma ce ne sono tantissimi sul territorio e questo lo so con sicurezza, a venire a proporci magari di esporre le proprie opere e noi saremo ben lieti di tenerle assolutamente. Monsignor Mocerino, tanti appuntamenti, la centralità della Basilica, il riferimento per l'intera comunità e quest'anno la sinergia con l'amministrazione comunale di Pompei. Certo, ci fa molto piacere poter lavorare di concerto sia con l'amministrazione comunale che con le altre realtà presenti sul territorio. Ovviamente lo facciamo come santuario, come comunità cristiana e quindi sottolineando soprattutto gli aspetti della fede cristiana che attraverso una serie di celebrazioni tutte incentrate sul mistero del Natale. Non manca nella nostra proposta complessiva anche l'attenzione alla cultura, all'arte, all'artaginato religioso che si esprime proprio in una produzione varia di tanti presepi che noi avremo in mostra anche quest'anno e la cui l'assegna sarà inaugurata proprio prossimamente il 7 pomeriggio sera alle ore 18 presso il centro educativo Bartolo Longo. Ha avuto modo di ricordare due giornate, quella del sinodo dei giovani e poi la giornata della pace? Il sinodo dei giovani è in preparazione. Ovviamente la Chiesa si prepara, la Chiesa universale, a questo appuntamento che coinvolge tutte le comunità cristiane del mondo intero facendo percorsi itinerari di approfondimento, di preparazione, di confronto, di dialogo proprio perché questo pianeta così compresso ma anche pianeta che riguarda il nostro futuro possa esprimersi in tutta la sua variegata ricchezza. La giornata della pace il primo gennaio è ovviamente appuntamento che si inserisce nel cartellone per via della data ma è comunque l'occasione per ritrovare l'intera comunità nel primo giorno dell'anno. La pace è di casa a Pompei. Il Beato Bartolo Longo, fondatore di questa città e del santuario, la iscrisse nel monumento della statua della Malone del Rosario che è in alto sulla facciata del santuario già nel 1905, nel 1901, 5 maggio 1901 quando fu inaugurata la facciata, non una parola scritta su pietra ma una parola scritta negli itinerari formativi ed educativi di promozione umana dei ragazzi che gli aveva già ospitato da ben 25 anni a Pompei negli istituti, figli dei carcerati, degli orfanotrofi. La pace non è il risultato a drittatrati firmati ma la costruzione di un cuore di pace, di relazioni, di pace, di condivisione, di fraternità, di giustizia e di promozione umana. Pompei ci auguriamo che possa essere visitata da tanti fedeli che possono vivere il Natale qui in questa città. La televisione però è strumento che arriva nelle case anche di chi non potrà vivere il Natale qui a Pompei. A queste persone qual è il suo messaggio? Intanto noi avremo come il nostro solito decine e decine di migliaia di persone che in questo mese affoderanno la nostra basilica per celebrare la propria fede. Ovviamente il messaggio che viene dal santuario di Pompei è un messaggio di amore, di fraternità, di condivisione, di solidarietà. I poveri devono essere al primo posto nella nostra vita. Il Papa Francesco ce lo ricorda continuamente in tutti i modi, vorrei dire anche in tutte le salse, scusate questa espressione, ma è così. E noi a Pompei i poveri sono di casa perché vorrei soltanto ricordare che non abbiamo soltanto minori che vengono dalle fasce più immarginate, che non abbiamo soltanto famiglie disegregate, ma abbiamo anche una mensa dei poveri dove ogni giorno noi doniamo decine e decine di pasta, 40.000 in un solo anno. Ma i poveri noi li avremo sempre con noi ed è quelli proprio che sono il nostro biglietto, il nostro passaporto per il paradiso.